Allora rifaccio il video perché mi è andato praticamente perso e l'ho cestinato involontariamente allora entrando sul sito dell'Inps e praticamente io ho già la delega per conto di un mio delegato praticamente entrando selezioni il delegante perché puoi farti delegare da più persone e poi schiaccio avanti dopo aver selezionato appunto la persona in questo caso entro per me stessa in modo tale da ricordarmi solo dove ero andata per le delega e per rifare il video appunto allora praticamente è andata in hai cambiato però il profilo dell'Inps aspetta è più stritto meno che non sia ok no sono io che mi sono un po' ciecata allora qua baccheca vabbè c'è la certificazione unica ma io non sono pensionata perciò non ce l'ho cosa che invece il delegato cioè chi mi ha delegato sì allora dove ero andata i tuoi dati deleghe deleghe allora io praticamente io andando in deleghe una volta entrata nel conto cioè nel conto nel profilo e della di chi mi ha delegato e vado su inserisce la delega e qua metto il codice fiscale cioè ho messo il mio codice fiscale nel suo profilo ma Inps e cognome nome e data di nascita e poi dopo però in questo caso in questo caso però figlio minorinne e non va bene questo è per inserire il il minore però qua sto solo il filo minore no allora era diversa proprio la e la vitiata allora proviamo con delle che questa allora questa però c'è solo per un figlio minore è cambiato qualcosa perché io non mi sono delegata come figlio minorinne io mi sono delegata come persona di fiducia e che gestisce le cioè gestisce visualizza la pensione poco alto cioè diciamo che non è che però no niente ho cercato un po' anche sui tuoi servizi e strumenti e c'è ISEE gestione deleghe e portale pagamenti gestione deleghe ti da comunque e ti rinoltra nella stessa identica pagina di prima e dove appunto e inserisce la delega per conto di un figlio minorenne e non c'è più e infatti ricordavo bene che era diverso la vitiata ma secondo me stanno facendo dei cambiamenti perché anche la parte dove e questa da parte il contatto inps che era diverso cioè praticamente e cioè andavo all'interno della bacheca invece aggiunge una richiesta o prenota un appuntamento appunto così e ti va cioè almeno a me va in una vitiata diversa da quello che quella che ricordavo io qua e a me è capitato di chiedere informazioni direttamente alle e all'inps e con adesso non con questo profilo e crea nuova richiesta o comunque visualizza richieste e e anzi no con il mio profilo perché c'è stato è stata una cosa per e per mio padre e quando direi quando ho fatto la successione adesso mi ricordo comunque con invia nuova richiesta e viene praticamente vieni contattata o vieni contattata o viene comunque la risposta e tra le pratiche e delle e tra le pratiche che vengono visualizzate nella nella bacheca allora sì infatti no in questo caso non ha risposto un po' così però mi è capitato altre volte di avere delle risposte un pochino più coerenti e e niente e gestione deleghe probabilmente stanno modificando ecco lo ho visto che stavano modificando perché secondo me cioè mi dà l'impressione che lo e che lo integra integrano con l'agenzia delle entrate perché ho visto una cosa dove comunque ti permette di andare alle e al 730 pre compilato però non vorrei dire una cavolata ecco qua 730 pre compilato che comunque viene fatto dall'agenzia delle entrate cioè devi accedere dal sito dell'agenzia delle entrate e e col fatto che c'è utilizza il servizio adesso non è consentita ma mi dà l'impressione che prossimamente lo sarà poi non lo so tutto è opinabile perciò secondo me ci stanno lavorando vedremo